G.P. Misano GP Misano, FP3 Motog, Binales insegue Marquez E' arrivato il sabato mattina a Misano, e gli appassionati sanno che il turno di libere della Motogp del sabato mattina è decisivo perché i tempi combinati della FP1, della FP2 e della FP3 decidono quali sono i dieci piloti più rapidi che accedono direttamente alla CUP2, a caccia della pole position. G.Ultima occasione per migliorare il proprio crono e gli ultimi minuti sono stati quelli decisivi, che hanno scombussolato un po' la classifica. Mark Marquez, su Honda, con uno apostrofo 32 958 chiude primo davanti all'unica Yamaha ufficiale di Maverick Binales e alla Ducati di Danilo Petrucci. Quarto Kalkutic Love, quinto il leader della classifica generale Andrea Dovizioso, Ducati, sesto Dani Pedrosa, settimo Giorgio Lorenzo e ottavo Joan Zarco. Chiudono la classifica dei migliori dieci Michele Pirlo e Aleix Espargaro. Appena fuori Andrea Iannone, che dovrà affrontare la CUNO cercando di aggiudicarsi uno dei due posti disponibili per andare in Q2 assieme ai migliori. Le posizioni sopra elencate sono quelle dei tempi combinati, qui sotto trovate i tempi relativi alla terza sessione di prove liberi di questa mattina. Marino e della Riviera di Rimini, Motogp, FP3. 193 Mark Markets SPR Epsilon Honda Team Honda 288. 958 225 Maverick Viales SPA Movistaria Mahamotog Piamaha 292. 154 335 Kalkutic Love GB RLCR Honda Honda 291. 128 444 Andrea Dovizioso Ita Ducati Team Ducati 290. 376 009 45 99 Giorgio Lorenzo SPA Ducati Team Ducati 292. 456 009 456 008 065 Giorgio Lorenzo Zarko Fra Monster Yamaha Tech Preyamaha 289. 177 41 Alle X Spargaro SPA Aprilia Racing Tingresini Aprilia 289. 668 004 28 26 Dani Pedrosa SPA Repsol Honda Team Honda 2930 133. 878 003 44 11 43 Jack Miller House 293. 715 004 799 Danilo Petrucita 8 Prama Cracing Ducati 291. 129 10 51 Michele Pirro Ita Ducati Team Ducati 2930 133. 878 003 43. 878 003 44 11 43 Jack Miller House EG 0,0 Mark VDS Honda 289. 834 10 10 52 0. 174 12 19 Alvaro Bautista SPA Pulle Beras Parti in Ducati 293. 193. 102 13 76 Loris Buzz Fra Reale Avin Tia Racing Ducati 2880 134. 186 003 2 14 53 Tito Rabat SPA EG 0,0 Mark VDS Honda 289. 197 001 15 45 Scott Redding GBR 8 Prama Cracing Ducati 289. 245 004 189. 245 004 8 16 29 Andrea Iannone Itatine Suzuki X Star Suzuki 2870 134. 244. 355 006 017 44 Paul Espargaro SPA Red Bull KTM Faktori Racing KTM 291. 349 004 18 42 Alex Rims SPA Team Suzuki X Star Suzuki 289. 413 006 413 006 419 17 Karel Abram KZ Pulle Beras Parti in Ducati 291. 462 00 49 20 94 Jonas Folger Germonster Yamaha Tech 3 Yamaha 288. 112 21 8 Hector Barber SPA Reale Avin Tia Racing Ducati 295. . 288 22 38 Bradley Smith GBR Red Bull KTM Faktori Racing KTM 290. 735 021 20 63 0. 201 23 22 Sam Loves GBR Aprilia Racing Tingres in Aprilia 281. 111. . . . . . . . . . Grazie per la visione!